Ciao amici di Italiano Games, un video proprio al volo che non mi aspettavo di fare ma che sta raccogliendo tantissimi retweet, vedete, in tempo reale che cambiano, 1.064 retweet, 995 di situazione, 9.630 mi piace. Insomma Zlatan Ibrahimovic, protagonista della grande vittoria di ieri a Napoli del Milan, sembra aver dichiarato guerra a FIFA e i Sports. La cosa un po' incredibile è che il Milan è una squadra partner di FIFA, lo sapete, da quest'anno Milan e Inter non sono più in PES, sono diventati squadre partner ed esclusive di FIFA. Cosa scrive Zlatan Ibrahimovic? Senza aver fatto nessun accordo in tutti questi anni. È tempo di investigare. Sono piuttosto basito, devo dire, da tutto questo perché davvero è incredibile. Qualcosa di simile è successo con Maradona e PES qualche tempo fa. Ma Maradona era un giocatore ritirato e non aveva più nessuna collaborazione stretta con nessuna squadra di calcio. Zlatan Ibrahimovic è un giocatore tesserato con il Milan. Milan, squadra, ripeto, partner ed esclusiva di eSports per FIFA. Quindi sarà interessante davvero capire come questa vicenda andrà avanti. I mi piace aumentano 10.215, 10.234, 1.153 retweet. Insomma, è una notizia davvero sorprendente che non so se avrà ripercussioni di alcun tipo perché ora lo dice Zlatan Ibrahimovic ma lo potrebbe dire qualsiasi giocatore sia per FIFA che per PES però, ricordiamocelo. Perché l'accordo con FIFA Pro, da quello che so io, è fondamentale per entrambi i giochi, per avere ad esempio i giocatori in licenza, anche se non si hanno accordi con le squadre. Pensate a PES, le squadre della Liga, ad esempio, tranne il Barcellona, sono tutte senza licenza, ma il giocatore può esserci. E se non vado errato dovrebbe essere proprio questo accordo con la FIFA Pro, che è un'entità che appunto mette assieme i giocatori. Questa cosa davvero sarà da investigare, da vedere un po' cosa accadrà. Intanto io mi piace aumentano, i retweet aumentano e cercheremo di capire un po' cosa accadrà. Lo ripeto, questo è l'account Twitter ufficiale di Zlatan Ibrahimovic. Vi terremo aggiornati se ci saranno ulteriori aggiornamenti perché questa notizia è davvero particolare e ribadisco potrebbe avere altre ripercussioni di altro genere, un po' su tutti i videogiochi di calcio e non solo su FIFA. Staremo a vedere se questo tweet non avrà ripercussioni di alcun tipo o meno. Vi terrò aggiornati. Ciao!